come soggetto politico e lo relega unicamente, anche qui in maniera miope, a soggetto economico. Fino a quando? L'efficace attuazione degli accordi di Minsk, perché non possiamo eludere il problema da cui poi tutto questo è nato, esige però una mediazione e un'attitudine al compromesso, che salvaguardi libertà e sicurezza di tutti. Senza accalpestare le legittime istanze dei contendenti. La responsabilità è chiaro, avete nella cartellina scritto anche bene, un contempo culturale, e non solo in sintesi, perché noi vorremmo che questo dibattito avvenisse prima del Consiglio europeo del 25-26, perché i Consigli europei si fanno ovviamente per discutere delle cose vere e non di addempimenti burocratici.